VLOG ONE Ogni mercoledì Chiappettere tutto Allora questo qui è un appello Precisamente un qualcosa che io non mi so spiegare Nel senso che Sono anche le persone Magari anche come me Che passano molti giorni sui social Ognuno per i vari motivi C'è il tipo da Il Giz C'è il tipo da Il Forum C'è il tipo da 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 Instagram E ci sono tantissimi Il tipo da Il tipo da Instagram Il tipo da Instagram E non Ce n'è uno Che io non mi riesco a spiegare Questo qui è un appello Vorrei che qualcuno me lo spiegasse Che Io capisco Vai tu su Facebook Apri Allora vai Chi vedi se Speri qualcuno ti abbia scritto Oppure magari vai a cercare Una notifica Ma io mi chiedo Un qualcosa E mi riferisco In particolar modo Proprio a te A te Io Sociologo Non ti capisco Non riesco a immaginare Il tipo di vita Che tu fai Ora tu Che giochi Ma soprattutto Tu che mi vi la richiesta A Candy Crush Cosa è Candy Crush saga Io capisco Farmamill Allora uno si vuole fare le sue piantine Si mette Si fa le piantine Ma Cazzo Candy Crush Cosa è Candy Crush saga Che appare il nodino No Questo qui Con Your dog Non so cosa siano Perché Perché giochi a un Candy Crush Non c'è C'è Assassin's Creed Call of Duty FIFA PES Mago M Anche Crash Perdico Ci puoi giocare Ma Candy Crush Che tipo sei? Descriviti Fai un video Fatti un video E riprendi la tua vita Perché ho giocato a questo gioco Perché ci gioco Oppure Quello che fai La mattina Perché io Non riesco a immaginarmi Come è fatto un tipo Da Candy Crush Ci avrebbe fatto una richiesta Stilata una lista Di tutte le persone Che ci giocano E poi tutti arrestati Peggio di chi fa sui sedi porno Per favore We are the free men Today is the free day Today is the day The day of the free men We are the free men Today is the free day Today is the day The day of the free men Music composition Carlo Manna Video composition Tomasso Vetter Grazie dell'iscrizione E buon divertimento A tutti